Sul disegno di legge per il riordino delle concessioni dei maniali marittime, il Sib, il sindacato balneari della Confcommercio, è pronto a fare la sua parte nell'interesse delle imprese. La conferma arriva da Riccardo Borgo, presidenza nazionale del Sib, che afferma che non è possibile illudere i balneari con soluzioni che fanno sembrare tutto facilmente risolvibile. Sempre secondo il Presidente del Sib, se il Governo e il Parlamento non fanno quanto devono, si corre il rischio che le riforme vengano fatte dalle sentenze dei giudici, senza alcuna intermediazione politica e sociale. L'instabilità degli ultimi governi italiani è forse una delle principali cause che hanno impedito il varo di una riforma per le concessioni balneari. Per i balneari è apprezzabile anche la volontà di mettere mano a un nuovo metodo di calcolo dei canoni dei maniali, come il Sib chiede dal 2008. Secondo il Sib, infine, occorre andare al più presto a una riforma, in quanto il sistema rischia di non reggere più una precarietà che è il peggior nemico di ogni impresa.